C'è tempo fino a domani, domenica 4 settembre, per visitare Murabilia, la mostra mercato di giardinaggio in corso sui baluardi delle Mura. La manifestazione, giunta alla 21esima edizione, vanta quest'anno 200 espositori e vivaisti da tutto il mondo, con proposte dalla Germania, dalla Francia, dalla Slovenia e dal Sud America. Tra gli stand è possibile ammirare piante esotiche e specie nostrane, ma anche frutta e ortaggi, oltre a una selezionata offerta commerciale di oggetti per la casa, cosmetici, spezzi, alimentari e abbigliamento, nel segno della filosofia green. Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, Murabilia offre anche un'interessante proposta culturale tra laboratori, mostre, presentazioni di libri, tavole rotonde e incontri. Particolare attenzione riservata in oltre ai più piccoli, a cui è dedicato il percorso nel sotterraneo del Baluardo San Regolo. Per loro classe di erbologia, con mandragole urlanti, pozioni magiche, difesa dalle arti oscure e divinazione botanica. La rassegna è strettamente legata all'orto botanico cittadino, che oltre a offrire visite guidate, per l'occasione ospita la mostra Passione Variegata, dedicata alle orchidee giapponesi.